Dove siamo finite? Cos'è questo posto? Calma, troverò una via d'uscita! Oh no! Non usciremo mai di qui! Niente panico! Oh, il nostro gioco! Eccolo! Questo è il progetto di una stanza segreta! E la costruiremo! Per prima cosa, dobbiamo sbarazzarci di questo disordine! Ripuliresti questo posto? Ci pensa Nancy! Oh no, io no! Nemmeno io! Va bene! Lanciamo una moneta! La prendo! Oh no! È un quadrato! Significa che devi pulire tu! Nancy ce la farà! Se dovesse fallire, le daremo dei consigli utili! Non riesco nemmeno a guardarla! Nancy, ti aiuto! Tutto quello che dobbiamo fare è portare fuori la spazzatura! Era deliziosa! Centro! Ce l'abbiamo fatta! Un terremoto! Ragazze! Cos'è? Holly! Queste sono travi da costruzione! E un biglietto! Abbiamo solo tre travi di legno! Non bastano! Ne servono altre dieci! Tre più dieci fa... Attente! Passiamo alla costruzione! Segnerò l'eccesso qui... E lo unirò ad angolo retto! L'avvitatore mi aiuterà! Fatto! Wow! Ci provo anch'io! Nancy, questo schizzo ti aiuterà! Wow! Chiarirà le cose! Esatto! Farò del mio meglio! Prima di tutto... Sego! È ora dell'avvitatore! Oh, mi stava per cadere! Wow, Nancy! Sei stata fantastica! Ovvio! Brava, Nancy! Attenta! Il telaio è finito! Servono le pareti adesso! Andiamo! Seguitemi! Ci siamo! Posizioniamo il compensato! Per favore, state attente! È difficile! Ci siamo quasi! Ben fatto! Adesso dobbiamo attaccare la tappezzeria! Forza! Mary, stai andando alla grande! Cosa stai facendo? Concentrati sul lavoro! Fatto! Manca ancora qualcosa! Caglia! Muovetevi! Via! Preparati compensato! Caglia! Ora abbiamo le finestre! Mary ha un talento pazzesco! Mi sono cambiata! Oh no! Sta tremando di nuovo! Oh, che male! Sei fortunata! Lo trovate divertente! Un telecomando a colori! Vediamo se continuerete a ridere! No, non farlo! Che bello! Dammelo! Cambia colore! Non sono più verde! Spostatevi! Dipingiamo le forme! Il triangolo sarà giallo! Ha funzionato! Ora io! Viola! Wow! Tocca a me! Rosa! Non è la scelta migliore! La nostra casa è completamente diversa! È troppo alto qui! Mary, potresti aiutarmi a salire? Salta su! Sto per cadere! Nancy, dovresti costruire una scala! Io? Va bene! Questi vanno bene! Eccellente! Non dimenticare i pioli! Ok! Sega! E metti la scala laggiù! Ci provo! Stai andando alla grande! Laggiù! Fatto! Brava! Ok! Sono bloccata! Mi ha colpito! E adesso? Oh no! Adesso sono pronta! Un biglietto? Togliti il casco! Ok! Davvero? È un pennello! Adoro dipingere! Decorerò la mia parete con dei quadrati! E per farlo farò uno stencil con del nastro adesivo! Uno, due, tre! Hai perso! Nancy! Ciao! Che bello! Oh! Ancora! Una grande spugna! So cosa farne! La pittura bianca sarà perfetta! Proprio così! Il cerchio è pronto! Alla grande! La pittura è asciutta! Via il nastro! Che bello! È ora che decori anch'io una parete! Altro che quadrato! Il triangolo è tutta un'altra storia! Una bomboletta spray! Il primo è fatto! Ne devo fare degli altri! Fatto! Sono impegnata qui! In questo posto ci starebbe bene una lampada accogliente! Rotonda! Oh sì! Questa è una combinazione perfetta! Accensione e luci! Anche a me serve una lampada! Una triangolare! Non funziona! Mary! Per favore! Fammi una lampada! Va bene! La farò! Yes! Ecco! Wow! È stupenda! L'attaccherò proprio qui! Bellissima! È una lampada per me, per favore! Va bene! Avrai la tua lampada! Una quadrata! Yes! È fantastica! Non so come ringraziarti! Sta tremando di nuovo! Attenti alla testa! È una scatola! E dentro c'è l'essenziale per cucire! Scelgo il viola! Il giallo è mio! Che bello! Mi è rimasto il rosa! Ora faccio i cuscini! Come funziona? Non ho idea di cosa fare! Oh, Nancy! Non c'è il manuale di istruzioni! I cuscini sono pronti! Nancy è nei guai! Non assomiglia a un cuscino! Non ce la farà da sola! Nancy! Lascia che ti dia una mano! Ollie, ho bisogno di un ancora di salvezza! Aiuto! Grazie! Ma sto bene! Ok, ho capito! Non è così difficile! Ecco! Ce l'abbiamo fatta! Ciao! Guardate cosa ho trovato! Posso appendere un'altalena su questa corda! Posso salire? Certo! Per 10 dollari! Va bene, ecco qua! Siediti! Oh sì! È così divertente! Basta! Il tempo è scaduto! Non è giusto! Adesso tocca a me! Prima i soldi! Purtroppo il prezzo è salito! Non è un problema! Disegnerò anche io un cerchio! Oh no! Ok, stacci quanto vuoi! Vado a casa mia! E io a casa mia! Posso? Certo, entra! Qui è piuttosto piccolo! Ma è molto carino! Il cuscino è mio! Così come la lampada! In realtà... È ora che tu vada nella tua stanza! Ok! Oh no! Sono troppo in alto! Mary! Salvami! Qualcuno mi ha chiamata? Aiutami a scendere! Ti salvo io! Ecco uno scivolo! L'altalena deve andare! Lo devo fissare bene! Nancy! Scendi! È molto divertente! Brava! Oh cavolo! Cos'è questa volta? Buon compleanno ragazze! Faremo una festa di compleanno! Palloncini e corriandoli! Prenderò quelli bianchi! Potresti stare più attenta! Ho decorato la stanza con le luci! Nancy! Vado matta per i palloncini! Tu no! Idea! Farò una ghirlanda! Fantastico! Olly, per favore! Fai delle ghirlande anche per noi! Ok! Non guardate! La decorazione è pronta! Triangolo, cerchio e quadrato insieme! Cos'è? Siamo arrivati alla fine! Vittoria! Dove siamo? Sono così confusa! C'è una specie di progetto! Mi piace! È ora di costruire! Stella laggiù! E sole laggiù! Cominciamo a dipingere! Bella idea! Devo proprio sistemarmi le unghie! Ma prima dobbiamo pulire tutto! Ci sono così tante tavole! Stella, non è il momento per le unghie! Userò la magia delle stelle! Non è giusto! Ok! Procediamo con i lavori! Segare è molto divertente! Da dove comincio? Sono così maldestra! Assembliamo il telaio! Wow! Forte! È solo l'inizio! Sto andando alla grande! Stella, non è così che si usa l'avvitatore! Così è molto più facile e veloce! Tienilo! E noi fissiamo questa tavola! Hai finito il telaio! Wow! Ciao a tutti! Guardate la fantastica cornice per la stanza segreta che abbiamo realizzato! Il materasso è così pesante! Userò la magia! Grazie ragazzi! Siete dei supereroi! Mettete il materasso là! Il nostro lavoro è finito! Certo! Un autografo! Sono generosa! Cosa? Chi ci paga? Che maleducata! Ok, pago io! Siamo ricchi! Calma! Il letto è fatto! Questo colore è così elegante! Un po' di magia e avrò delle tende fantastiche! Ci sono una luna e una stella! Il martello è il mio strumento preferito! Anch'io voglio una trasformazione magica! Per favore! Per favore! Wow! Bello! Pronto? Operai e Dili? Ho bisogno di aiuto! Di nuovo loro? Appendete il quadro laggiù! Sta calpestando il mio letto! Fantastico! Grazie per il vostro lavoro! È ora di pagare! Grazie! Siete così gentili! E i soldi? Questo no! Aspettate! Più brillantezza! Bello! Stai facendo un cuscino? Mi voglio uno anch'io! Ho quasi finito! Non funziona! Mi sono punta tutte le dita! Fatto! Sole, aiutami! Ok! Ecco un cuscino per te! È meraviglioso! Oh, come faccio a scendere! Ho paura delle altezze! Non è così alto! Va bene! Una stella cadente! Esprimi un desiderio! Svegliati! Stai bene? Ok! Ti faccio una scala! Trovato! Una bella mensola per i miei attrezzi! Lo metterò dove tutti possano vederlo! Voila! Ehi, cos'è? Basta scherzare! Anch'io ho bisogno delle mensole! Per favore! No! Prima guardale! Hai vinto! Le attacco! Qui? Fatto! Sei contenta adesso? Le adoro! Ora è tutto al suo posto! Ho dimenticato il cuscino! Ops! È ora di dormire! Buongiorno! Che bello! Diamo un po' di pepe nero a stella! No, facciamole il solletico con una piuma! Ok! Ciao, Stella! Starnutisci di nuovo, per favore! No! Incredibile! Non me l'aspettavo nemmeno io! Devo farmi le ciglia! Oh, ho bisogno di uno specchio! Vediamo! Ma da dove viene questo bagliore? Sono arrivati i fotografi e le macchine fotografiche! Non riesco a dormire! Sole, lascia che ti appenda lo specchio! Ok! Ok! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Cominciamo a costruire il telaio! Porterò altri materiali! Ci sono quasi! Oh, sono così pesanti! Vai tu se non hai nient'altro da fare! Tu lo tieni e io stringo le viti! Ha funzionato! Posso provare? Certo! Stanno facendo del loro meglio! Ce l'abbiamo fatta! Non ci resta che mettere il telaio al suo posto! Avanti! Perchè state facendo tutto questo? Perchè non usare la magia delle gemme? È molto più semplice! Trovate! Ops! Il secondo piano è mio! Dimenticatelo! Il secondo piano è mio! Sasso, carta, forbici! Mettono sempre sasso! Prima! Oh no! Vi fermerò! Il secondo piano è mio! Come vuoi! È troppo alto! Non posso salire senza aiuto! Ho bisogno di uno sgabello! No! Lo sgabello non aiuta! È inutile! Diamante! Non essere triste! Ti faremo una scala! Fatto! Una vera scala! Qualcosa è andato storto! Devi fissare la scala! Fatto! Sei così gentile! Il rosso è il mio colore preferito! Riverniciare il telaio è stata un'ottima idea! E io dipingerò tutto con il potere della magia! Facilissimo! Wow! Mi servirà un materasso! Cosa ne dici? Troppo bianco? Ho bisogno di un materasso! Quel materasso è mio! Adesso è mio! Ridammelo! No! Usalo! Ma ti aspetta una sorpresa! Ah! Questo materasso è scomodo! Degli smeraldi? Ecco perché! Oh sì! Sono miei! Mi farò il materasso più morbido! Oh cielo! Ora non ho il materasso! Non piangere! Avrai un materasso anche tu! Una coperta! Grazie! È stato un piacere! Il mio letto è pronto! Manca qualcosa! Lo so! Ecco quello che mi serve! Ehi! Che ne dici di scambiare un anello con un velo? Un vero diamante? Affare fatto! Puoi avere il velo! Il velo sarà uno splendido baldacchino! Ancora? Ecco! Cosa me ne faccio della carta igienica? Tieni! Sono così stufo dei portali! Ha davvero bisogno di aiuto! Cosa? Non ci sono più diamanti! Mi serve quello! Puoi averlo! Grazie! Rubino! Questo è per te! Oh! Grazie diamante! Questa lampada è meravigliosa! È stato un piacere! Come fare una lampada con gli smeraldi? L'incantesimo di crescita! Ha funzionato! Wow! Voglio fare anche io una lampada di Rubini! Rubino! Trasformati in una lampada! Oh no! È carta igienica! Non preoccuparti! Decoriamo la parete vicino al letto! Facciamolo! Cosa stanno combinando? È meglio usare il martello! Che casino! Non riesco a concentrarmi! Quando la finirà? Abbiamo finito con la parete! Badabim! Badabum! Abbiamo un microfono! Anch'io amo cantare! Mettiti in fila! È insopportabile! Ho bisogno di una tenda per bloccare il rumore! Adesso posso leggere in pace! Cantiamo insieme! Ragazze! Dove sono andate? Volevo mostrargli la mia stanza! Sorpresa! Bellissima! Un messaggio! È il compleanno della mia amica! È il suo compleanno! Capisco! È il suo compleanno! Devo prenderle un regalo! Buon compleanno, ragazze! Wow! Regali! Wow! Un cuscino rubino! Un cuscino color smeraldo! Un cuscino diamantato! È il migliore! Il mio cuscino è il più comodo! Il tuo posto è qui! Ma dove posso mettere tutta questa roba? Lo so! Ho bisogno di una mensola! Ci saranno tutte le mie cose! E le mie! E le mie! Che sfrontatezza! Ho un'idea! Non così in fretta! Prima dovete pagare per lo stoccaggio! Ok, ecco! Prendete le vostre cose! Devo farmi una mensola tutta mia! La decorerò un po'! Avrò anche io una mensola! La mia mensola sarà decorata con gli smeraldi! Che bella cornice fotografica! È ricoperta di gemme! È mia! No, è mia! Rubino, guardati! Cosa c'è? Ho la coda! È incredibile! Devo fare una foto! Cosa sta succedendo? Guardati! È pazzesco! Ci siamo trasformate in sirene? Sì! Sembra proprio di sì! Questo progetto non va più bene! Ne occorre uno nuovo! Per le sirene delle gemme! Liberiamoci del vecchio divano! Gemma magica, aiutaci! Non funziona! Provaci tu! Sta usando tutto il mio potere! Facciamolo insieme! Non riusciamo a spostare il divano! Ho trovato delle assi! Oh! Il soffitto perde! Oh no! Di nuovo la coda! Rimetto il divano dove era! No! È perfetto! Mi fa piacere! Hai ripulito la stanza da tutto il disordine! Il tuo superpotere è incredibile! È ora di decorare le pareti! Dipingerò dei pesci di mare esotici! Frigati! Dipingere con la coda è così divertente! Qualcuno sta chiamando! Ciao! È un piacere sentirti! Non crederai mai a quello che mi è successo! Ecco un indizio! Squame e pinna! Diamante sta di nuovo ozziando! Ehi, dammi una mano! Cosa c'è? Sto dipingendo anch'io! Fantastico! Costruiamo! Metterò una trave proprio qui! Una segata! Cominciamo bene! Perché complicare le cose quando si può usare un tablet magico? Ti faccio vedere! Capovalgi! È facile! Fantastico! Dammelo! Lo voglio anch'io! Adesso mettiamo insieme il tutto! Uno, due, tre! Fammi provare! Hai quasi cancellato tutto! Per fortuna posso andare indietro! Torno subito! Chi ha bisogno di un materasso? Grazie! Sono super pesanti! Non per me! È fantastico avere una super forza! È ora di decorare questo posto! Basta un pizzico di magia per mettere le luci sul muro! E io aggiungo il tulle! Stupendo! Smeraldo! Smeraldo! E tu? Ho trasformato il letto nell'oceano! Che bello! Meno male che ho già dei pesci! Oh! Un rubino! I tuoi pesci sono spariti! No! Per favore, calmati! Ti aiuteremo a decorare il letto! Ho una rete! E io i coralli! Vi sono molto grata, ragazze! Siamo sirene! Grazie, Smeraldo! Grazie, Diamo! Dov'è? Sono qui! Facciamo una magia! Io ora sono circondata dalle onde! Ci serve una piscina! Tuffo a bomba! Per favore, non saltare! Non farlo! Siamo di nuovo sirene! Ci vuole uno scivolo d'acqua! Idee? Niente scivoli! Ok! Addio scivolo! Oh, cos'è? Un granchio? Come sei finito qui? Sarai la mia decorazione! Qualche altra decorazione non farà male! Portale? Apriti! Ehi, mi dai le bolle di sapone? No! In cambio di un fermaglio per capelli di diamanti? Oh sì! Grazie! Bolle di sapone! Bolle di sapone! Vi trasformo in una decorazione perfetta usando la magia! Fantastico! Cosa c'è di nuovo nel mondo? Wow! Una corona da sirena! La voglio! Oh sì! Mi calza come un guanto! Un messaggio? Chi potrebbe essere? Vediamo! Mi ha chiesto di uscire! Un appuntamento! Ci serve una toletta, però! Dove la mettiamo? Amiche, ho pensato a tutto! La toletta è pronta! Vado prima io! Oh no! Un attacco d'acqua! Io passo! Il mio tavolo! Togli quella coda! Ragazze, smettetela di litigare! Calmiamoci e vediamo chi ci ha scritto! What? Questo manager vuole ingannarci! Dobbiamo dargli una lezione! Ehi! Ci stavi aspettando? Sono fregato! Prendiamolo! Ehi!